Inter, Mkhitaryan, noi mattoni di un muro, vogliamo la seconda stella. L'armeno protagonista del derby con una doppietta e un assist. Con questi tifosi possiamo fare tutto punto siamo molto felici, specialmente io. È importante aver vinto questa partita perché abbiamo iniziato benissimo la stagione e vogliamo dare continuità. Abbiamo vinto 5 derby? Con i nostri tifosi possiamo fare tutto. Voglio ringraziarli per il sostegno anche nei 4 dell'anno scorso. Parole di Mkhitaryan, grande protagonista dell'Inter che ha dominato il derby con una doppietta e un assist. Dobbiamo andare avanti tutti insieme. Siamo tutti qui per un obiettivo, non è importante se gioco titolare, ha detto Adason a fine gara, siamo 25 in squadra. Non importa se parto dall'inizio o parto in panchina. Il mister sceglierà partita per partita, non conta chi gioca e chi non gioca. Dobbiamo essere come i mattoni di un muro, uno accanto all'altro. Vogliamo la seconda stella punto e ancora l'armeno. Abbiamo cambiato metà squadra ma quelli che sono arrivati sanno molto bene cosa vuol dire giocare nell'Inter. Lo vedete come fanno la differenza? Scudetto? Andiamo piano, passo dopo passo ma vogliamo la seconda stella. Ciao!